Angelo, grazie tanto per la tua disponibilità. Inizierei subito con una domanda a chiave. Che cos'è l'Open Innovation per voi che siete stati tra i pionieri? Come la state portando avanti? Quali obiettivi e finalità vi siete pose, quali risultati avete raggiunto e che consigli dai alle aziende che oggi in Italia vogliono intraprendere questo percorso di innovazione? Domanda complicata. Inizierei dal dire che è un percorso, nel senso che è lungi da me dare risposte definitive o avere soluzioni. Non è così, noi abbiamo cominciato questo percorso due anni fa perché ci siamo resi conto che il nostro modo di fare innovazione non ci bastava più. Ovviamente noi continueremo a fare innovazione con i grossi centri di innovazione in Inghilterra, in Inghilterra e in Olanda, ma non ci bastava. Preso coscienza abbiamo cominciato a dire ok, cosa dobbiamo fare? Ma innanzitutto fare Open Innovation e fare la stessa si deve quantomeno avere le idee abbastanza chiare di dove andare. Quindi siamo partiti da un'analisi strategica del portafoglio di Unilever Italia e abbiamo identificato quali erano i mercati o canali dove andare. Detto questo abbiamo identificato quattro modi di fare Open Innovation. Il modo più, passa nel tema, è tradizionale, abbiamo identificato un numero molto limitato di fornitori in cui il rapporto, lo chiamiamo fornitori ma abbastanza improvviso, il rapporto è andato ben al di là del fornitore, quindi non è il fornitore dove uno va lì e dice producimi questo, no, con questi fornitori siamo andati lì e siamo andati con delle idee, abbiamo dato dei brief abbastanza ampi e il fornitore lavora su questi brief poi ritorna da noi e da lì comincia un processo iterativo che porta da una prima idea, una prima bozza a un prodotto. Abbiamo già dei casi, nel senso che già quest'anno quattro delle nostre innovazioni sono state frutto di questo processo. L'altra strada è quella di avere dei collegamenti speciali dell'università, devo dire che questo è un processo che abbiamo cominciato con risultati alterni, però sicuramente il mondo dell'università è un mondo in cui abbiamo guardato e guardo con attenzione, devo dire che forse è un'area dove o noi non abbiamo trovato, o noi non siamo stati bravi o c'è un po' di lavoro da fare sia dal punto di vista dell'università sia dal punto di vista dell'università, però credo che l'università rimanga un'area importante. Abbiamo poi come Unilever, questo è Londra, abbiamo un venture capital, come funziona questo venture capital? È aperto a idee che vengono da tutti i paesi, quindi noi in quel caso fungiamo da scouting, troviamo delle idee, troviamo delle piccole aziendine che pensiamo possono fare, possono rispondere alle necessità di un eleve, le presentiamo a venture capital. È di queste settimane, abbiamo presentato un caso italiano, adesso stiamo aspettando, stiamo lavorando con il venture capital se riteniamo di mettere dei fondi in questa azienda di Torino. Ultima area, ma non ultima, ma quasi prima, è tutto il mondo delle start up e qui c'è una doppia valenza, una valenza interna, nel senso che per me è il modo di portare questa azienda fuori dall'ufficio, portare questa azienda fuori dall'area della cosiddetta comfortable zone, portare le mie persone a confrontarsi con persone che hanno 50 mila Euro e in 3 mesi devono arrivare a fare una presentazione e a ottenere dei capitali. Quindi c'è una dimensione culturale, quindi una dimensione di veramente portare questa azienda fuori e far sì che la velocità e anche una certa attenzione ai costi, ai budget diventi con naturale nella nostra azienda. Quando i nostri ragazzi sono confrontati con le start up, hanno sentito che questi hanno 50 mila Euro per 3 mesi, noi qui budget, se non parla di milioni, nessuno si può. Quindi c'è una dimensione culturale molto importante da non sottovalare. L'altra dimensione invece è che queste start up e devo dire che in questo momento siamo abbastanza focalizzati, quindi abbiamo un rapporto continuativo già con l'UES Lab qui a Roma, anche il vantaggio di logistica, adesso stiamo lavorando con un pre-acceleratore PKB sempre su Roma e con PKB abbiamo usato un approccio un po' diverso. Abbiamo fatto un hackathon, quindi abbiamo portato tutta la comunità di Unilever sotto i 35 anni, hanno fatto il loro hackathon in l'UES Lab, da quest'hackathon sono uscite un certo numero di idee, queste idee sono state selezionate dal board, ne abbiamo selezionate 3, queste 3 sono state date in passo adesso a delle start up attraverso PKB. quindi un mettere insieme un nuovo mindset ma anche con una certa concretezza che poi alla fine dedichiamo un sacco di tempo a questa attività, veramente l'obiettivo è per Natale queste 3 start up ritorneranno in azienda e ci faranno le presentazioni. Quindi è, se tu vuoi, una dimensione culturale ma una dimensione anche molto oggettiva e molto pratica. What next? Allora, innanzitutto sistematizzarlo di più e passare il tempo alla speranza che da sempre più start up escano idee che poi noi possiamo mettere sul mercato perché qual è la nostra forza se tu vuoi, nel momento in cui vediamo che una start up ci può essere del buono in quella start up che funziona, chiaramente poi ci mettiamo i finanziamenti e ci mettiamo anche la nostra scala. Grazie, una domanda finale. Per fare open innovation serve un ecosistema, hai citato le università, hai citato il venture capital, anche se è il vostro interno, il corpo del venture capital, hai citato le start up, hai citato società di servizi e politecnici e dal punto di vista anche governativo. Cosa ti aspetti? Cosa si può fare di più in Italia per rendere strutturale questo percorso all'innovazione da parte anche di piccole e medie imprese? Io sono convinto che culturalmente l'Italia è il paese giusto, la nazione giusta per far sviluppare le start up. Oggi quello che vedo dal mio piccolo osservatorio è che ci sono tante iniziative abbastanza sparse sul territorio. Io credo che forse ci vorrebbe una cabina di regia, forse anche un ministero dello sviluppo economico che allarga il contesto non solo all'industria, io credo che è stato dato un grosso taglio, una grossa spinta al settore più manufatturiero, io credo che forse è il momento di allargarlo al tema delle start up, al tema dell'R&D, c'è un'altra cosa che è un'altra cosa. Cioè dovremmo cercare, anche se odio la parola di mettere al sistema, dovremmo cercare di anche mettere esperienze diverse più intorno a un tavolo e a capire come possiamo accederare alcune cose positive che vedo sul territorio nazionale ma che non sono ancora coese, sono ancora degli eventi sporadici. Quindi io credo che sono assolutamente positivo e forse, mettere insieme un numero stretto di persone, una sorta di cabina di regia potrebbe aiutare a definire i next step. Grazie. Grazie a voi. Grazie.